Torna il consueto appuntamento con i giovani per la prevenzione. Questo è un progetto, il progetto Cuore, che va avanti ormai da un po' di tempo. Quali sono i risultati che avete ottenuto e i risultati che si ottengono in genere con la prevenzione? Allora, sicuramente la prevenzione ha un valore formidabile. Quindi noi, col progetto Cuore in particolare, misuriamo quello che viene fatto attraverso dei questionari che vengono somministrati prima e poi dopo l'intervento. Quindi abbiamo visto che effettivamente i ragazzi hanno appreso molti concetti e molti già li conoscono perché vengono dati sicuramente dalla scuola, dai docenti che fanno una grande opera, ma altri vengono acquisiti grazie alla nostra presenza. Sono ormai parecchi anni che noi lo portiamo avanti, non solo nelle scuole superiori, ma anche nelle scuole medie. Appunto vuole evidenziare l'importanza degli stili di vita e dell'alimentazione nel rispetto del concetto della salute dettato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che consiste nel bel essere fisico, mentale e sociale. Quali sono i consigli che più frequentemente lei dà ai giovani per condurre uno stile di vita sano? Utilizzare dei cibi freschi e di stagione, quindi un imperativo è questo, ed evitare i cibi conservati e quelli ricchi di sale e di zuccheri aggiunti che porterebbero all'obesità o al sovrappeso prima di arrivare all'obesità. Dormire almeno 7-8 ore la notte, quindi evitare di dedicarsi con iPad, telefoni e cellulari vari che possono distogliere l'attenzione e soprattutto sregolare la funzione ormonale a livello organico. E quindi al mattino ci si sveglia stanchi, affaticati e cambia anche il senso della fame, proprio dovuto alla leptina che è un ormone dedicato a questo. La scuola ha tra i propri compiti istituzionali proprio quello di un'educazione a 360 gradi che guardi quindi sia lo stato contenutistico, meramente contenutistico, sia la sfera appunto del benessere che la coscienza civile. Quindi è proprio perché è tutto il cittadino che deve essere formato e pertanto non possiamo esimerci a fare questo. Tra l'altro questa è anche comunque una sensibilità che il liceo scientifico ha sempre dimostrato e non vuole venire meno in questo. Io come dirigente ma soprattutto i miei docenti ritengono che una scuola per essere completa, per dare agli studenti una formazione completa non può prescindere da questo e soprattutto dalla collaborazione con gli enti.